Una vera e propria piaga sociale che distrugge famiglie, causa disastri economici e a volte purtroppo registra casi di suicidio. Si parla della ludopatia, la dipendenza da gioco che coinvolge uomini e donne di tutte le età. La regione Abruzzo presenta un progetto di legge per il contrasto, la prevenzione e infine la cura di questa malattia sociale. Il problema per fortuna della ludopatia è conosciuto. Si sa che è una malattia, si sa anche la dipendenza pari alle droghe, pari all'alcol, pari a tutte quelle che sono le malattie che danno dipendenza. Oggi la regione Abruzzo, con la posizione di questa legge che porta come primo firmatario me e il collega Leandro Bracco, ha il compito di istituire una legge che sia da apripista in tutta Italia, che ha tre fattori fondamentali. Quello più importante è che la pubblicità debba dire veramente la realtà. Non si può dire che è facile vincere, ti piace vincere facile sapendo che la realtà, la possibilità di vincere, pare allo 0,0001% e soprattutto per le slot machine se giochi 100 euro ne riprendi 70, quindi è chiaro che perdi. E poi fare prevenzione nelle scuole, perché purtroppo la ludopatia non ha età, colpisce i ragazzi, i minori e gli anziani, tutti. Quindi fare prevenzione in maniera particolare nelle scuole e poi la cura, la cura che è importante. Il convegno ci sarà sabato a Terravo, lì presenteremo questa legge, ci saranno interventi di psicologi, responsabili di comunità, responsabili di asserti per dirci veramente qual è la realtà. A Terravo, per esempio, in provincia di Terravo si gioca 1.897 euro pro capite, molto superiori al bilancio dello stesso comunità di Terravo. Le statistiche rilevano che in Abruzzo la tendenza a praticare gioco d'azzardo sia nettamente superiore rispetto al trend nazionale e che sia molto preoccupante riscontrare che nella fascia di età dei 17-18 anni la propensione al gioco sia del 10% superiore rispetto al resto d'Italia. Questo fa capire quant'è la realtà e quanto è importante di questo gioco d'azzardo che comporta la disgregazione di famiglie, i subestati sociali, la perdita di case, la perdita di tutto quello che una famiglia nel tempo è riuscita a accumulare per dare una certezza ai propri figli. Quindi è una piaga veramente grande e quindi su questa dobbiamo essere tutti coscienti, informare i propri figli, informare tutte le persone e fare una legge di tutela del cittadino.